Buona domenica, che l'amor, la pazza e la fede dal Signore entri in te vostre chiese, tra vostre cur e che resti. Allora il Vangelo è il di Giovanni. In che volta hanno fatto una gnoccia a carne di Galileo, e ieri anche alla mare di Gesù, e hanno invidato a gnocci anche Gesù cui discepoli. Vignota, ma anche al vento la mare di Gesù gli dice, «A sole stas, c'è niente vini». Gli dice Gesù, «Ecce vuoi l'istudio di me, femmine? La meiore non è anche morivate». Sommari, ordi sei servitori, «Voatris fa se ducce che lui us disarà». E erano lì sei spigli di piedi per s'abluzioni dei giudei, che tenevano fin da un tolito lune. Ordi, Gesù, gli emplai gli spigli di aghe, li sanno gli emplai, dice, «Aual da lor». Poi ordi, «Como traete e portate al Mestre di Taule?» Loro li portarono. E appena che il Mestre di Taule alla cerciare dell'aghe diventate vini, lui non lo sapeva, d'ontri che veniva, ma ben lo sapeva in i servitori che aveva in tratte l'aghe. Allora, al clame il novice, gli dice, «Ducce, ti rinfor, prima il vimbone, e poco anche essi, e le gris, che il pui scarti. Tu invece, tu hai stignuto, conti, il vimbone, fin com'è». Questi nizi dei spiei, Gesù lo ha fatto in Cane di Galilea e alla pandù della sua gloria, e i suoi discepoli hanno creduto in lui. Allora, prima di tutto si tratta di vini, e guardate, lo sapevi già, che la Bibbia, il vino è il simbolo, il segnale di una vita bella, di una vita contente, un po' come per i furlans, insomma, la che il vento aveva un taglio, lui dice, «Tengo un momento insieme contento». Va bene, asson agnocis, che è la vita, eh, l'agnocis, e asson restas c'è niente vini. C'è niente vini, allora, c'è niente contentece, appunto, una vita non contente, e chi è o vini l'amare dal signor che lo vise? E tal fatto, invece te, o podressei, per esempio, la parte più sana di noi stess, che nos dìs a noi, ma non vedo che c'è vita che tu menis, non vedo che non tu sei contento, ti visis tutti che roba qui, oppure apposei la parte sana, diciamo, dell'umanità, che c'è l'ant, che è il benedetto mondo, che lo dìs in dal bene esso, che noi è vero, a dìs, visi insi che noi è vero così contento. La risposta è dal signor, alle, la mia ora non è anche ora arrivata. Qual è l'ora del signor? Per noi, con l'ora del signor, è sempre, intanto, perché lui è sempre disponibile, aiutando a vivere bene queste vite. Non è arrivata la sua ora, perché, perché, secondo me, lui arriva a fare, a fare non scontente, ti misure che non si viaggine a lui, ti misure che non ossia la sin fa la vita di lui. Ecco, in quel senso lì, di mutche l'ora del signore, dipende di no, pensa, e si dice che è onnipotente, sicché la Madonna, tra quel caso chi, e dice ai servitori, fasse i ducce che us disarà, benedetta Madonna. Quando è arrivata l'agnul, a dici quale capo deve essere la volontà di Dio per l'ora di E, tal'imprim ha tirato fu qualche obiezione, ma tal'ultima ha detto, beh, ho sei qua, che ha fatto lui. Dio fa così, e ha detto la Madonna. Gli primi sperauli del Vangelo sono che schi, gli ultimi sperauli sono che schi, vi ho detto anche voi altri di fare come me, di la sala fa lui. Di fatto, ai dici i servitori, fasse i ducce che lui us disarà, quindi dite il permesso a Dio di entrare in vostre vite, se volessi essi contenuti. La nostra vita sono le sei anfori. Il numero 6 è il simbolo dell'imperfezione, perché il 4 è il simbolo dell'uman, il 4 che ci ricresce e diventa Dio, diventa 7, che è la completezza, ecco, che sforzo arriva fino al 6, che lui dice, l'imperfezione, di fatto, è vera. O vincitato, non di farsi una vita bella, una vita plena, una vita contente. La clame in vita, cioè la clame in benessere, no, no, ha le tante vede e volle, ma no, gli è si contenti come vuoi. Quindi, lui, che sanno fuori lì, e sono vedi, come che di fatto, è la nostra vita, tanti svolti che non ha sapore, tanto è vero, che il Signore, al di se il servidor si entrai, gli spiuli di aghe. Sì, perché l'aghe, la nostra vita, come l'aghe, non ha color, non ha sapore, non ha profumo. Ecco, rendisi conti, dice Costin Vivinti, all'importante, rendisi conti, domen che volte, o podarim là, a Ciri, di lui, che nos dè di sabor, e color, e profumo, e nostra vita, che sia di una vita saurida. Conde, plui, un'altra roba, a livello religioso, e a livello umano. Allora, a livello umano, ovvien i nonos, benedessi nonos, e una volta, erano i parronos, di situazione infame, e che gli altri si osservivano, come ho, i mandano in pensione, non hanno neanche la possibilità, tanti svolti, di vivere i nervi, e quindi, di conseguenze, di trasmettere, che c'è la continuità, di tradizione, che tu capisci, i nonos, che di mia età, è una vita che si squincorri, perché c'è di lavorare, c'è di portare i frutti, c'è di vita che lì, i giovani, e hanno tutti, e è vero, ma sono contenti i giovani, che non hanno, hanno chiamato, da l'Avignì, perché c'è un po' da l'Avignì, ecco, hanno poche speranze, i frutti, di che altre bande, c'è avuto, vengono su Bappaltà, ma a scuole, ma se sono piccoli, alla babysitter, e via in davanti, ho vengono una vita fatta su, la che non si può, i essi contenti, dal punto di vista religioso, ho vengono una religione, gli spiuli, se erano di piedi, la piedi ricordi, i comandamenti, la nostra religione, all'era osservare, egoli, e non si facevano contenti, che religione lì, che avevano sempre paura, di far peccato, che avevano sempre, il volo che non stia l'ave, con che il Dio, pronto, vio, di se si comportava in bene o male, per premianus e chiastianus, ieri, in religione, ecco allora, veit cuscienze, dice mut, co viveis, alla ditte lui, e traete e portarele, al mestri di tavole, ecco, tessos mangs, la nostra vita, è diventa saurida, colorida, è diventa profumata, alle dimettile, novin, ovvin dimettici, tessos mangs, benedetto signore, e dopo al distraete, portatele al mestri di tavola, il mestri di tavola, sono chi che avevano di proviodi, dal punto di vista umano, e religioso, a e nestre vite, partendo dai genitori, dopo i maestri, dopo i politici, di una banda, di altre bande, i predici, vieni davanti, che avevano di proviodi, e non si sono visati, tanto che manchiava il vino, tanto che lei non è contente, ecco, non si sono visati di questo, allora portatele al mestri di tavola, dice lui, e loro partono, e il mestri di tavola è a cercare, ma c'è molto, ma il primo vigno, al beve di sei, che è il buono, e chi è l'ultimo, chi è l'ultimo, e chi si invertisce il modo di vivere la vita, che è il vivere di tal passato, che è il beve di essere il bene, invece, come si dice sempre, il bene, è il simbolo, anche in modo di vigni, per i nostri cristiani, come per esempio, così dentro di tal Covid, che di fatto, la nostra vita, ebbene, non si dà la coscienza, dice così, della nostra debolezza, della nostra, di essi in che smont, come così, non vengono di spalancarsi a lui, dato che le sicurezze, non si vengono a manchiare, e gli è tante di che pure che mai, vuoi come vuoi che viaggiano a Tor, o vedete, è che queste pure, che non si fanno crodi, o di una banda, o di che altre, non toglie l'argomento, e oggi, non si fanno crodi, crodi a lui, crodi a lui, è il momento di buttarsi tra i suoi bracci, per lasciare trasformare questa nostra vita, di aga in vigno, allora come ho fatto la preghiera, propite, dal nome del Padre, dal Fì, e dal Spirito Santo, Amen. Signor, affanno scontenze, a lui, sposa a noi, allora ti preimpi, nostri fami, fatti senti, doni e di loro, quante cirem la contentezza, anche per strade sbagliate, ti preimpi, nostri comunità, cristiani, che sono abiliti, a viodi sia là, al manco, iudili tu, ad assidoglie, contenti di te, davanti al mondo, e ti preimpi anche per tutti i omni, quei che venivano, di quel Dio, che ti ha mandato te, come unica strada, per vivi con te, e poi sposarlo lui, calè il paradiso, già ca di ca, Amen. Poi ben, eccomo, un Dio, che l'è tutto preoccupato, di fanus contentus, questo è il Dio, che ho celebrato, questo Vangelo, perché l'intervene, proprio a tal momento, che l'hanno, non era contento, è il momento, di buttarsi, intorno a lui, di noi. Buona domenica e mandi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie per la visione!